Triste notizia questa mattina per la comunità agropolese. Non ce l'ha fatta l'anziano signore che nel pomeriggio di ieri è stato investito in località fonti ad Agropoli. Secondo la testimonianza di alcuni residenti del posto, l'anziano signore è stato investito da un'auto ieri pomeriggio intorno alle 16 nei pressi della coin mentre stava attraversando la strada. Nel cadere l'anziano ha battuto violentemente il capo con l'asfalto riportando un trauma. L'automobilista subito dopo l'investimento si è subito fermato per prestare soccorso. Intervenuti immediatamente anche i residenti che hanno assistito l'anziano signore. Presenti anche i sanitari del 118, i vigili urbani e i carabinieri della compagnia di Agropoli diretti dal capitano Fabio Lagarello per indagare sulla dinamica dell'incidente stradale. L'uomo è stato trasferito tempestivamente presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania ma purtroppo è deceduto intorno alle mezzanotte di ieri. Domani si terranno i funerali, indagini dunque in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. È da tempo che i residenti della contrada fonti chiedono ad alta voce all'amministrazione comunale di Agropoli l'installazione di apposite telecamere di videosorveglianza e maggiori controlli sulla viabilità e sulla sicurezza dei cittadini anche per quanto riguarda gli innumerivoli furti che si sono verificati nel passato.